Vladimir Putin lo zar russo per eccellenza pensate che dal punto di vista della salute non se la passa molto bene perché? perché è notizia di recente che l'attuale presidente della Russia ha o per migliore di rabbia il morbo di Parkinson e addirittura un tumore al pancreas non si sa in quale stato di avanzamento questo tumore del pancreas che lo riguarda si trovi però ripeto che questo presidente lo zar russo per eccellenza ha sia il morbo di Parkinson che il tumore del pancreas ora per quanto riguarda il morbo di Parkinson non credo che vada a cagionare la morte per quanto riguarda invece il tumore al pancreas è uno dei più letali dal mio punto di vista sia ben chiaro che è secondo la mia opinione ed è se non erro anche uno dei più dolorosi che ha difficoltà nell'essere ripreso non so neanche se sia in una condizione di metastasi per quanto riguarda questo cancro per quanto riguarda questo tumore però fatto sta che ripeto ripeto Vladimir A sia il morbo di Parkinson che il tumore del pancreas il video di oggi termina qua iscrivetevi a questo canale di Youtube narratore italiano vi ho informato spero diffusamente di qual è lo stato di salute di Vladimir Putin iscrivetevi al canale commentate fatemi sapere cosa ne pensate un cordiale salutone a voi e al prossimo video